Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata temporaneamente sospesa dal presidente Dino Latini dopo che in aula è scoppiata una bagarre durante l'esame di una mozione del consigliere di rinasci Marche, Luca Santarelli, sulle strategie delle aree interne della regione Marche, adempimenti e necessità. Durante il dibattito sono state espresse dalle opposizioni pesanti critiche a Santarelli, eletto nella coalizione di centrosinistra, ma ormai allineatosi con il centrodestra. E la situazione è peggiorata quando è intervenuto Romano Carancini del PD, che ha attaccato la maggioranza sulla riforma sanitaria. A quel punto Latini ha sospeso i lavori. Alla ripresa, con l'aula che ancora rumoreggiava, c'è stata una vera e propria ramanzina del presidente dell'Assemblea legislativa, per poi passare all'approvazione della risoluzione sulle strategie per le aree interne. Nel corso dei lavori in aula, inoltre, è stata approvata anche un'altra risoluzione, quella sulla Shoah, che è stata votata all'unanimità. Un provvedimento che ha riscosso il plauso della consigliera della Lega, Monica Ciarri. Tanti gli impegni previsti in questo provvedimento, proprio perché noi dobbiamo indurre i nostri studenti a fare della memoria sia un punto fondamentale della loro cultura e della loro educazione. Oggi abbiamo scritto una bella pagina istituzionale, perché abbiamo messo insieme due impegni, uno quello culturale rispetto ai viaggi della memoria nel ricordo della Shoah, e l'altro quello di continuare il percorso delle pietre d'inciampo nella regione Marche. Tutto questo per tenere vivo il ricordo, per tenere viva la cultura della solidarietà antirazzista e antinazifascista. Soddisfazione è stata espressa anche da Maurizio Mangialardi del PD. C'è grande soddisfazione da parte nostra perché la nostra mozione, poi trasformata in risoluzione, è stata votata all'unanimità, recuperando un ritardo che si era determinato anche per scelte anche forse incomprensibili sul progetto delle pietre d'inciampo. Oggi lo votiamo, quindi significa che si trovano subito le risorse e si possa procedere velocemente per coltivare la memoria, inciampare tutti insieme per non dimenticare.